Ciao a tutti, buongiorno a tutti. E la SEO, ovviamente penso che tutti sapete che cosa significa SEO. Penso proprio di sì, vero? Sì, sì, tutti dicono di sì. Questo è molto importante perché questa mattina con Michele abbiamo toccato i temi del funnel nell'email marketing, poi con Alessandro siamo andati a capire l'importanza della segmentazione, l'importanza dei contenuti e l'importanza anche della gestione dei tempi. Adesso con Enrico faremo un salto ancora più importante e andremo a capire il legame tra l'email marketing e la SEO. Quindi benvenuto Enrico e buona scolta a voi. Ah, dimenticavo, mi scuso, Enrico è CEO di Fordem. Grazie. Allora, io parto ringraziando Elisabetta. Vieni, vieni, non scappare perché sono stato a pranzo con lei oggi, modera da tre giorni. Siamo stati, insomma, a far pranzo insieme, insieme agli altri moderatori. E insomma, un ringraziamento perché portare avanti la moderazione per tre giorni è molto impegnativo e questo è, insomma, anche fatto per noi, per noi, per il pubblico. Quindi grazie mille, grazie veramente tanto. Diciamo, quando c'è un pubblico bello, interattivo, poi con chi ha passione per questa materia, per noi moderatori il gioco diventa bello perché è un bellissimo viaggio che facciamo assieme a tutti, dove condividiamo esperienze, pensieri. Quindi la fatica non c'è, ci si diverte. Grazie a voi. È così. E poi anche grazie a voi perché è sempre molto bello, insomma, per chi sale qui, sapere che tante persone stanno dedicando il loro tempo, che è la risorsa più importante che abbiamo, al di là di email, sms, tutto quello che è, di cui parliamo, è la risorsa più importante che abbiamo. Nessuno, se lo perdiamo, nessuno ce lo dà. Quindi cercherò di massimizzare al meglio, darvi al meglio, cioè il meglio che riesco, il meglio che posso per massimizzare il tempo che avete, che mi state dedicando. Allora, oggi parliamo di... Un po' secondo solo, chiedo alle persone, non si può stare in piedi cortesemente se venite a sedervi nei posti qui davanti per motivi di sicurezza, se no siamo costretti a farvi uscire. Grazie. Ok, dicevo, oggi parliamo di una combo. Parliamo di email, ma parliamo anche di SEO. Parliamo di SEO, ma anche di email. Perché? Perché da una parte parlare solo di email, di sms, di messaggi, è un po' vincolante. Da un certo punto di vista, nel senso che vedi una parte sola del funnel, appunto, come abbiamo visto questa mattina, e poi perché la SEO vedrete fortemente connessa e interconnessa con le strategie digitali. Diceva Elisabetta, io ho la fortuna di aver fondato 4dem, in verità ho la fortuna di lavorare con un team incredibile che, insomma, mi dà l'opportunità di essere qui, di imparare, di, insomma, provare a cambiare anche un po' e dare un po' all'Italia, per quello che riguarda i software e l'email marketing, una risposta importante. Ci stiamo riuscendo, con oltre 10.000 account attivate negli ultimi 2-3 anni, quindi siamo un player ormai conosciuto. Questa è grande soddisfazione per tutti noi. Di cosa parleremo oggi? Allora, dicevo, parleremo di SEO e di email marketing. Vi darò delle quasi definizioni, non voglio dare definizioni, sappiamo già di cosa stiamo parlando, però, ecco, vorrei un attimo sorvolare su delle definizioni o delle quasi definizioni di questo genere. L'approccio attivo e passivo di questi due media o questi due canali, dipende da come li vogliamo chiamare, o strumenti. Poi mi sono chiesto, la reputazione è qualità o è la qualità che è la reputazione? Quindi è un po' come nel gioco dell'uovo e della gallina. Cos'è nato prima? Parleremo poi anche qui di funnel, soprattutto per la SEO, soprattutto per l'email. Parliamo di long tail e segmentazione. Sono abbastanza... faremo delle analogie, spesso, su questi due canali, su questi due media. Parleremo del momento della verità, come dice Google. E infine faremo degli esempi, vi porterò dei casi pratici, un caso in particolare, eccetera. La premessa è che tutta l'informazione, tutti i dati e la struttura dello speech nasce dall'analisi di molti dei nostri clienti, dai milioni di mail che vengono inviate ogni settimana e ci permettono di fare poi delle considerazioni particolari rispetto a cosa funziona oppure cosa non funziona. Quasi definizioni. Perché? Perché sappiamo tutti cos'è il direct marketing. In questo caso parliamo soprattutto di messaggi, non per forza email, messaggi di ogni genere, che vengono inviate a chi ha autorizzato espressamente qualcosa. Quindi togliamo totalmente, sgombriamo totalmente l'idea che i messaggi possano essere inviati a chi non li ha richiesti. Quello si chiama spam, non parleremo di questo oggi. Parliamo di qualcosa che l'utente ha chiesto e noi siamo lì, diciamo abbiamo il dovere di darglielo. Ok? Se l'ha chiesto, se lo aspetta. Questo è il direct marketing vero. Che cos'è la SEO rispetto anche al direct marketing? Più che un'azione legata a dei contatti, è un'azione mirata sul motore di ricerca per essere trovati sostanzialmente, per migliorare la visibilità e per essere trovati in termini di risultati, di prodotti, eccetera. Per quanto riguarda il direct marketing, nello specifico per quello che riguarda le email, giusto per darvi una brevissima definizione ed elenco di che cosa intendiamo, ecco, di email non esiste una sola, o comunque un solo tipo. Parliamo di email transazionali, che sono quelle super profilate, l'ultima. Parliamo di email automatiche, parliamo di newsletter e parliamo di dem. In verità tutto è partito da delle email iper profilate, poi nel corso del tempo si sono diversificate. Oggi parliamo di almeno quattro tipologie di messaggi. Sono due canali o due media o due strumenti che hanno due approcci molto differenti. Nel caso del direct marketing, per esempio, si parla di un canale di conversazione diretta, di dialogo diretto, ed è ovviamente però un canale unilaterale. Quindi noi parliamo all'utente che ascolta, se vuole ovviamente. Per quello che riguarda invece la SEO, stiamo parlando di un canale basato sulla trovabilità. Se ci sono, e sono bravo a farmi trovare, l'utente mi trova. Se non ci sono, non sono trovabile, ecco, non ottengo una visita, un risultato. Il direct marketing nasce come strumento personalizzabile one to one, e invece la SEO nasce come presenza sul motore di ricerca, si è trasformato poi nel tempo come uno strumento più evoluto. Oggi si parla di inbound marketing. Qui sto veramente generalizzando e ovviamente non voglio entrare nel dettaglio delle singole definizioni o spaccare il capello. Generalizziamo, diamo comunque un'idea di qual è la differenza tra l'uno e tra l'altro. Il direct marketing è un media classico. Con media classico intendo il media che è basato sull'interruzione. La TV è un media classico. Provate a immaginare, siete a casa, adesso con Netflix è cambiato anche quello, però siete a casa, state guardando una partita di calcio, un film, venite interrotti dalla pubblicità. Quindi state facendo una cosa, la pubblicità vi interrompe. Non potete far nulla. Così l'email marketing è basato sull'interruzione, come altri media sono basati sull'interruzione, il call center, la radio, idem. Nel caso invece della SEO si parla di, cioè l'utente passa da passivo, quindi interrotto, ad attivo. Quindi la SEO funziona, esiste, se e solo se l'utente cerca qualcosa. Quindi chi ha bisogno di essere trovato si deve adoperare per essere trovato. Ma non è detto che l'utente lo trovi. Insomma, è un concetto totalmente diametralmente opposto. Il direct marketing inoltre lavora su destinatari noti, assolutamente noti. Abbiamo un indirizzo email, abbiamo dei dati. La SEO invece lavora su dei dati, su delle informazioni che non sono note. Quindi su un utente, diciamo, anche qui generalizzo, anonimo. Poi, mentre facevo la presentazione, dicevo, ma proviamo a scrivere, a portare dei dati su quello che è l'efficacia in termini di lead generation di questi canali. Cosicché vi porto un dato di Marketing Sherpa che dice, la SEO in termini di lead generation è il primo canale per acquisizione. Il primo canale. Il secondo è paid di Google. E il terzo è l'email marketing. Che diventa decisamente più incisivo, parliamo di più dell'80% di incisività in termini di lead generation o di vendite, quando parliamo di saldi, quando parliamo di offerte, quando parliamo di offerte dirette. Provate a immaginare il Black Friday. Il Black Friday, la maggior parte, diciamo, delle vendite, già clienti, è basata sulle email. Non sicuramente su altri canali. Il Black Friday, quel giorno lì, lavora soprattutto sulle email. L'insieme di questi due strumenti, in verità, un altro dato è più canali in contemporanea aumentano la profittabilità. Cioè, se proviamo a mettere un indice da 1 a 5, l'indice di profittabilità, ecco, la combo di email ed SMS, email ed SEO, mi porta a un 3.7. Quindi, un valore decisamente alto. Stiamo parlando di due canali. Per arrivare a quattro, bisogna aggiungere la stampa, il mobile e il web marketing in generale. Quindi, presi due di questi canali, mi fanno, in termini di profittabilità, altre 7. Che è un dato molto importante. Non significa che il resto non funziona. Non stiamo dicendo questo. Stiamo dicendo però che sono due strumenti, o due canali, che lavorano, se fatto in un certo modo, in maniera molto efficace, molto importante, e che non si possono trascurare. Ma, per farlo, bisogna seguire, quantomeno, un criterio, un criterio logico, delle best practice, bisogna saperlo fare, farlo in un certo modo. Cosicché, come vi dicevo all'inizio, è nato primo l'uovo, la gallina. Quindi, è la reputazione che definisce la qualità, o è la qualità che definisce la reputazione? E perché parliamo di reputazione? Perché oggi gli strumenti, il digital, ci segue, segue i domini delle aziende, segue chi fa pubblicità, e sa se la sta facendo in maniera giusta, sbagliata, corretta, non corretta, se lo fa con metodi buoni, con metodi, diciamo, corretti, oppure si sta barando un po'. Nel caso delle email si parla di spam, nel caso invece della SEO, è abbastanza simile, si parla più o meno di spam, in questo caso entra in gioco l'algoritmo di Google, però sostanzialmente il risultato è lo stesso. Cosa influenza di più l'utente? La reputazione o la qualità? Proviamo a vederlo. Allora, per quanto riguarda il direct marketing, dicevo, si parla di spam. Google dice che grazie all'intelligenza artificiale di TensorFlow ha iniziato a bloccare oltre 100 milioni di spam. Cosa significa? Significa che Google non è che contrassegna le nostre email a mano o con dei semplici strumenti di analisi, ma ha un'intelligenza artificiale, ha machine learning, e si accorge, secondo determinati parametri, se voi avete una buona reputazione o no, e in base a quella decide se prendere quell'email e metterla nella casella di posta. Spesso la domanda è eppure io mando una email e mi va in spam. Perché? Ecco, lì la risposta non è semplicemente perché non rispetti la privacy. Forse quello della privacy è l'ultimo dei problemi, è un problema legale, ma da un punto di vista della reputation è molto più complesso, lo vedremo dopo, è anche abbastanza complesso da gestire, da analizzare, però ecco, è un concetto che viene ripreso poi anche sulla SEO. Nel caso di Google, per quello che riguarda il suo motore di ricerca, Google dice per noi spam e malware significa rimuovere da risultati di ricerca siti che presentano comportamenti ingannevoli o manipolatori. Nelle email è la stessa cosa, mi stai mandando qualcosa che l'utente non apprezza, ergo, è spam. Quindi esiste lo spam sia nella SEO che nell'email o quantomeno nel direct marketing e sostanzialmente Google, perché parliamo di Google? Non perché sia bello farlo, ma semplicemente perché in Italia le caselle di posta Gmail sono oltre 17 milioni, sono la casella di posta più utilizzata. Il secondo, diciamo, client di posta più utilizzato, o meglio, la somma delle caselle aziendali di posta non fanno diciamo quanto quelle di Google. Al terzo posto abbiamo libero. Quindi sostanzialmente il player di Gmail è un player da tenere fortemente in considerazione. Quando parliamo di qualità, invece, parliamo di alcune diciamo, alcune metriche da tenere sempre in considerazione nelle nostre campagne. Parliamo per esempio delle aperture. Un'email che ha fatto ottime aperture e un'email che Google che Gmail apprezzerà. Perché significa che le persone l'hanno aperta, significa che l'hanno riconosciuta come diciamo un buon contenuto ergo la volta dopo mi attribuirà un punteggio superiore e mi darà la possibilità di rientrare in inbox. Al contrario, se invio delle campagne e mi danno il 3-4% di aperture ecco, diventa sempre più difficile dimostrare alla Google che tu mandi delle cose importanti e puoi anche dirgli che le hai raccolte con la firma la controfirma in termini di privacy. A Gmail non frega niente. Vi interessa soltanto se c'è interazione. Provate a immaginare invece sul sito web quando parliamo di bounce rate provate a immaginare quanto è importante avere un bounce rate basso perché per Google di nuovo sempre lui a casa sua dice se tu mi mandi le persone su un sito anche tramite ads per esempio mi le mandi di sopra e questi rimbalzano cioè non fanno niente se ne vanno e lo fa l'80% 85 70 80% ecco vuol dire che 7 su 10 8 su 10 non hanno apprezzato quello che hanno trovato ergo quello che fai non interessa o non è coerente o non ha un punteggio di qualità di un certo tipo ergo ti abbassa il rating e ti abbassa anche in termini di posizionamento o quantomeno è una delle mete di un'equipia da tenere sempre in considerazione ma quali sono gli elementi che impattano sulle aperture perché spesso mi viene chiesto ma ok ho capito che le mie mail non sempre sono performanti in termini privacy o comunque in termini di aperture sulla privacy è un discorso a parte quello GDPR dicendo bisogna tenerlo sempre abbastanza in mente non perché sia la legge ma perché comunque noi siamo persone e nella nostra diciamo nella nostra vita non ci piace che qualcuno ci invii qualcosa o ci suoni il campanello senza avvertimento non vogliamo essere disturbati per quello che invece riguarda le mail corrette quelle registrate quindi quelle basate sul permission marketing l'oggetto è sempre l'aspetto più importante vale il 90% quindi lavorare sull'oggetto significa quantomeno vincere ma poi anche il mittente banalmente chi sei e cosa mi vuoi dire allora se mi interessa apro se non mi interessa non apro ecco perché le mail transazionali quelle che vi arrivano dopo una transazione quelle che vi arrivano per darvi non so una ricevuta di acquisto eccetera hanno dei tassi di apertura altissimi perché ce le aspettiamo la vogliamo e sappiamo che è a seguito di un'azione che abbiamo già fatto ho acquistato mi arriva la ricevuta oppure mi arriva la conferma di pagamento quelle mail le apro sempre o quasi sempre ma riassumendo come si lavora in termini di qualità sul direct marketing e sulla SEO beh per il direct marketing sicuramente l'aumento delle aperture l'aumento dei click la diminuzione drastica dei bounce allora i bounce sono le mail che tornano indietro diciamo in poche parole ecco se le vostre email avete una lista di 1000 contatti e 200 tornano indietro avete un problema questo Google lo sa che è un problema perché è strano che il 20% delle vostre email della vostra lista torni indietro vuol dire che o non la utilizzate da parecchio tempo oppure chissà dove l'avete presa questo lo scrive Google non ci sono altre scuse nel senso che non è sfortuna è proprio matematico quindi ci sono dei tassi di bounce che non devono superare l'1% quelli sì sono fisiologici le email cambiano progressivamente ci possono essere dei problemi di consegna mentre il 20% assolutamente no in qualche modo come dice Google sta ingannando quindi ti penalizzo la diminuzione delle disiscrizioni di nuovo se io invio un email e la gente si disiscrive non sono sfortunato e ho rotto le scatole o non gli ho dato quello che volevano quindi Google dice probabilmente i tuoi contenuti non sono adatti rispetto alla promessa che avevi fatto perché se uno decide di essere nella tua lista e si disiscrive al primo colpo ecco è un problema peggio ancora se non lo aiuta a disiscriversi da un punto di vista SEO invece parliamo delle stesse cose parliamo di bounce rate diminuzione come dicevamo prima l'aumento del rank del sito web il tempo di visualizzazione della pagina quindi sulle mail non si può avere questo tempo però sulle pagine web sì quanto una persona naviga in termini di tempo quante pagine visita quello indice gli interessa se in termini di quantità il vostro sito è visitato tante pagine per tanto tempo ecco per google questo è un bel sito e google il prodotto google si chiama motore di ricerca e meglio ancora risultati del motore di ricerca quindi avrà tutto l'interesse a portarvi su parliamo anche di backlinks e di interazioni della pagina ma qui per ora abbiamo parlato due mondi separati come se fossero due gruppi come in questa sala una parte e l'altra parte ma la reputazione seo influisce sull'email marketing o se io faccio il cattivo e faccio spam l'indicizzazione del mio sito internet avrà qualche conseguenza qualcuno ci ha mai pensato a questo beh in questo momento google ci sta lavorando la risposta è chiaramente sì nel 2015 ha registrato un brevetto che permette di tenere sotto controllo la reputazione dei domini che inviano email alle caselle di posta gmail e di tenerne conto quando questa reputazione servirà a garantire un'ulteriore reputazione sul motore di ricerca siamo fregati o meglio se non facciamo bene il nostro lavoro e se pensiamo che email e seo siano due cose diverse sì sono due strumenti diversi ma siamo la stessa azienda siamo lo stesso dominio ergo a un certo punto significa che la reputazione si fonde non esistono due reputazioni separate e quello che conta ricordate tenetelo bene a mente la parola chiave è reputazione questo vale nella vita personale la vita privata nella vita di tutti i giorni ma soprattutto vale perché ci sono i numeri e le statistiche e gli analitis vale sul digital e vale ancora di più in funzione di quello che google sta facendo quindi sta cercando di mettere insieme le due reputazioni perché se sono molto bravo a livello di seo magari utilizzo delle pratiche spam o non totalmente corrette nell'email la seo ne risente di nuovo anche qui chi fa seo deve tenere in considerazione cosa fa l'email marketer in termini di professione provate a immaginare se nella vostra azienda vostra agenzia avete un seo specialist e un email marketer ecco a un certo punto la domanda va fatta ragazzi cerchiamo di coordinarci perché uno può lavorare bene ma rovinare il lavoro all'altro e viceversa ecco da un punto di vista da un punto di vista invece del risultato parliamo di inbox e di SERP per l'email diciamo si per l'email marketing e per la seo sono termini diciamo differenti ma sono la stessa cosa in termini di risultati arrivare in inbox significa superare i filtri anti spam e fare in modo di avere l'opportunità di essere aperti letti e quindi poi sfociare in tutto quello che sappiamo in termini di funnel nella seo si parla di SERP cioè se io sono in uno dei primi risultati ho l'opportunità di essere cliccato quindi se io faccio impression magari seguirà un click nell'email marketing se faccio impression cioè la mia mail viene contrassegnata come in arrivo o comunque nella prima pagina nei primi risultati avrò e l'oggetto il 90% ricordate l'oggetto è accattivante allora avrò l'opportunità di essere aperto quindi diciamo il modo alla fine l'approccio è molto simile perché perché da un punto di vista diciamo degli strumenti si sono due approcci simili ma in due momenti differenti e qui mi piace portarvi anche io un funnel in questo caso semplicemente per farvi notare due cose che la SEO è in alto proprio su a parte l'awareness per esempio dei social network la consideration la SEO è all'inizio quindi il traffico traffico di qualità significa portare nell'imbuto conversioni di qualità se io non ho conversioni di qualità poi da un punto di vista email non avrò ordini fatturato di qualità si chiama imbuto per questo non è un caso però il concetto qui non è tanto sulla quantità su come muovere un utente dall'altro dall'altro step eccetera qui è se la SEO lavora in maniera corretta l'email marketing chiude perfettamente il cerchio è un po' come se dovessimo usare una metafora calcistica se il cross è fatto bene mi basta solo mettere la palla in rete quindi se la SEO fa bene il primo pezzo il direct marketing fa il secondo e cosa significa fare bene un pezzo o l'altro provate a immaginare in termini di chiavi di ricerca più la chiave di ricerca è specifica e più chi mi sta cercando quando arriverà a compilare un form probabilmente sarà più in target quindi se per esempio cerco evento a Torino generico se mi registro con quella keyword o quelle due keyword ecco sicuramente magari io faccio eventi di cucina magari si sta cercando un evento di un'altra cosa evento a Torino gratis un'altra cosa ancora evento a Torino gratis Palazzo Vela evento a Torino gratis Palazzo Vela 16 giugno evento a Torino gratis Palazzo Vela marketing sempre più specifico quando riesco a convertire le long tail in termini di form sicuramente aumenta la qualità e avrò dei risultati di qualità i form peraltro sono oggetto di interesse perché compilare un form non è prendere le persone e spingerle a scrivere qualcosa ma è dargli l'opportunità di dire le cose che interessa dire per l'obiettivo che li stai in qualche modo ponendo e i form non è detto che siano semplicemente dei campi da compilare possono essere possono arrivare nel momento in cui una persona sta guardando un'immagine possono arrivare se cliccano su un link possono arrivare se sta abbandonando la pagina possono arrivare per tantissimi motivi l'importante è che arrivino e non siano troppo fastidiosi quindi non bisogna esagerare però ci deve essere perché magari in quel momento sono timido e non ho voglia non mi va non mi sento così coraggioso di compilare se vedo però il form davanti ecco questo lo faccio da un punto di vista dello strumento per esempio potrei avere dei form che siano anche condizionali provate a immaginare ecco qui ecco ci piace anche dire che i form debbano essere anche create all'interno della vostra piattaforma di email marketing quindi all'interno della piattaforma accendete o spegnete una campagna form in base a un obiettivo e lo fate direttamente da lì senza andare sul sito eccetera e magari vi costruite anche lì un funnel per cui se io ti conosco già perché sei passato una volta e mi hai detto che ti chiami Luca io non ti chiedo più il nome o se te lo chiedo te lo prefillo cioè te lo precompilo dopodiché ti chiedo non so la data di nascita vedremo dopo tutti vogliono fare l'email automatica con la data di nascita con gli auguri di compleanno ma nessuno di noi ha i dati o comunque pochi di noi hanno i dati dei propri clienti o prospect sulla data di nascita quindi sul compleanno e quindi sembra una cosa più semplice del mondo ma poi non si riesce a fare dopo di che mi sono chiesto beh se questo è il flusso se questo è diciamo il percorso dov'è che scatta veramente la molla dov'è il momento della verità così che vi porto una cosa che sicuramente conoscete e conosciamo tutti il momento della verità secondo Google facciamo un esempio così vi porto anche una una case history Luca vede un banner pubblicitario ok sta navigando sulla gazzetta vede un banner pubblicizza un'auto chiaramente i banner sappiamo cosa servono servono a fare branding servono a alcune volte a ricordarci qualcosa in caso di retargeting comunque servono a darci un'informazione noi li guardiamo e continuiamo a fare quello che stavamo facendo però per quanto il banner sia magari poco cliccato se noi in quel momento lo stiamo guardando e siamo in target allora quella cosa lì ci può potenzialmente far scattare una molla perché perché io l'ho visto mi sono anche ricordato cioè Luca l'ha visto si è anche ricordato che deve cambiare l'auto ed è un po' che lo sta facendo sta cercando a casa preventivi non sa quale macchina quante porte e via dicendo cosicché in quel momento lì si ricorda della pubblicità e trova un momento libero e digita su Google una diciamo una chiave di ricerca ecco per Google questo è il momento della verità ovvero l'utente arriva per qualche motivo da una pubblicità arriva a fare una ricerca ecco lì bisogna essere trovabili bisogna essere trovati nel modo corretto e poi quando troviamo questa persona dobbiamo portarla a fare qualcosa quindi provate ad immaginare abbiamo Luca che sta cercando da un po' di tempo di cambiare l'auto non c'ha voglia non ha tempo non sa come fare trovare un'auto cambiare l'auto è sempre complesso deve leggere fare ecco il sabato lo fa ecco in quel momento lì noi dobbiamo esserci ci dobbiamo essere perché se abbiamo già fatto pubblicità in precedenza speso del budget poi non possiamo bruciarci l'opportunità quindi dobbiamo esserci è come distribuire non so gli snack al cioccolato fare pubblicità in tv ma non essere trovati nei negozi per quale motivo faccio pubblicità se poi il mio prodotto nei negozi non esiste o comunque non c'è non è ancora arrivato quello quando l'utente entra in negozio e cerca quello snack deve trovarlo quello è il momento della verità qui successivamente quando l'utente clicca su un link che trova su google ecco il momento della verità per l'email marketing invece è questo porto un utente che sta pensando a un bisogno latente sta cercando di cambiare auto a quel punto lo sbatto scusate la parola direttamente su una pagina per proporgli di compilarla sostanzialmente perché mi serve poi dargli un servizio ok quindi gli chiedo alcune informazioni il messaggio che trovo deve essere coerente con il link deve essere coerente con il banner a quel punto se io riesco a convertirlo da qui non dico che il gioco sia fatto però ecco ho portato un utente di qualità nel database non è un utente a caso è un utente di qualità da qui in avanti ci sono un casino di informazioni che in teoria dovrei prendere c'è il crm eccetera eccetera non entriamo in questa logica però ecco quando entra nel funnel e se sono rispettate le logiche della SEO per la qualità ecco in questo caso l'email marketing è molto felice quindi potremmo dire che email e SEO direct marketing e SEO sono veramente due amici due amici per la pelle se lavorano bene insieme infine provate a immaginare io porto le persone nel database li devo dire qualcosa perché loro se non aspettano test drive promozioni sconti diciamo qualunque cosa qualunque informazione riguardante è quello che lui sta cercando in questo caso è un acquisto ma potrebbe essere anche un blog ragazzi potrebbe essere qualunque cosa se una persona sta cercando un'informazione specifica su un tema ecco io lo faccio registrare ad un form che parlerà di quel tema e poi non gli mando un'altra cosa che non c'entra niente perché lì si disescrive gli mando qualcosa inerente poi con il piano editoriale posso allargarmi però all'inizio gli devo parlare di quello che del motivo per cui si è scritto infine retargeting perché dopo che si è scritto dopo che gli ho mandato anche una comunicazione posso fare retargeting via mail posso fare retargeting con la display però ecco guardatela in maniera circolare il ragionamento è questo sembra molto complesso perché va a toccare una serie di di pezzi in verità è molto semplice la differenza è che probabilmente nella nostra testa adesso c'è ah che bello arriveranno un casino di utenti farò un casino di cose no ci vuole tempo bisogna portarli segmentarli bene però ecco l'importante è che quelli che entrano siano di qualità e dopo di che avrò poi il modo di convertirli per quello che vendo che faccio e chiaramente il software la tecnologia ci deve aiutare e qui due consigli la prima cosa è fare le cose semplici quindi la cosa che non vorrei fare è spiegarvi come automatizzare qualunque cosa con mille trigger con mille if se succede una cosa ne faccio un'altra se succede un'altra ne faccio un'altra ancora eccetera tutti vogliamo fare questo ma guardando oltre 10.000 utenti provando a tirare fuori un po' un fil rouge ecco tutti vogliamo automatizzare tutto ma nessuno fa l'automazione vera perché ci vuole tanto tempo perché prima di farla devo aver capito non tanto come funziona il software ma devo aver capito come funziona la mia azienda e come il cliente è solitamente abituato a comprare quello che noi facciamo non è fatto per proporre noi agli altri ma è fatto per aiutare il cliente nel raggiungere un risultato che ha lui non noi quindi l'automazione deve essere fatta in funzione sua e non è una questione solo di software è una questione proprio di processo di acquisto di bisogno latente di appunto di marketing e di processo poi di ascolto verso il cliente quindi prima di tutto facciamo le cose semplici non significa che poi non possiamo fare le cose difficili iniziamo con quelle semplici portiamoci da casa dopodiché passiamo le cose un po' più complesse per un semplice motivo perché se partiamo già da livello 5 non saremo mai soddisfatti di quello che stiamo facendo dobbiamo partire da livello 1 portarlo a termine poi passiamo al 2 3 4 molti di voi come me come tanti hanno un po' la voglia fremono di fare le cose domani mattina ah sì perché vorrei automatizzare tutto cavolo però non posso aspettare troppo tempo ok questo porta sostanzialmente a non fare bene le cose le cose fatte bene significa iniziare da una cosa farla e poi passare a quella dopo ci vorrà più tempo però a un certo punto dopo che il tempo è passato vi girate e dite però ne ho fatta di strada e quelle cose lì tutte insieme non sareste stati in grado di farla il software deve aiutarci nella diciamo nella segmentazione nei dati e il software non è soltanto email ok non è soltanto google è anche diciamo la fonte del dato perché potrei prendere i dati per esempio da un crm potrei prendere i dati da un e-commerce potrei prendere i dati da delle banche dati magari per arricchire dei dati che mi mancano ecco da quel punto di vista lì poi devo trovare il modo di fare di matchare questi dati e utilizzarli per dare all'utente quello che effettivamente si aspetta nel caso specifico per esempio potrei avere una landing page con dei campi condizionali quindi se l'utente mi scrive uomo io gli propongo degli altri campi se mi scrive cane io gli propongo quelle che sono non so le razze del cane se mi scrive vino rosso o digita vino rosso io gli propongo dei vini rossi ok nella select perché? perché io voglio in qualche modo fare un'intervista condizionale basata su dei dati su qualcosa che mi interessa perché se mi dici vino rosso io poi ti spedisco delle cose sul vino rosso se mi dici che hai un cane io non ti spedisco le promozioni per le diciamo il cibo per gatti perché ragazzi se mi spedisci le cose sbagliate la prima cosa che penso è cosa ti ho dato i dati a fare usali perché te li ho dati per essere aiutato successivamente in effetti quello del cane e del gatto è un esempio che facciamo spesso un esempio di diciamo di un tema abbastanza complesso soprattutto per gli amanti degli animali ed è veramente forte perché l'animale domestico mi segmenta la comunicazione e io devo comunque prevedere delle automazioni differenti scrivere cosa piace al tuo gatto è tosta provate a immaginare scrivere un'email automatica che dice cosa piace al tuo gatto e se ho sbagliato a prendere i dati e cosa faccio la mando a tutti no devo essere tranquillo sereno che se c'è un errore perché l'utente mi ha scritto che ha un cane ma se mi ha detto che ha un gatto io sono sicuro che quella persona lì mi aprirà l'email ne sono quasi certo perché lui mi ha dato quell'informazione e quell'informazione e quell'email lì gli interessa veramente questo lo dicevamo prima banalissimo questo è banale però non lo fa nessuno email di compleanno tutti noi abbiamo ogni anno un compleanno ma non tutti noi ricevono delle cose automatizzate per quel giorno perché perché spesso o noi non diamo il dato o non ce lo chiedono è banale per un altro motivo perché il compleanno è bello se lo festeggio ricevendo un regalo e se io non ho l'opportunità di mandarti un regalo ecco ho perso un'opportunità l'hai persa tu soprattutto l'ho persa io ecco questo è una cosa abbastanza diciamo una case perché è un semplicissimo dato però non sempre nel funnel ci ricordiamo di chiederlo di chiederlo questo dato non abbiamo dei form magari condizionali oppure non abbiamo un sistema per tirare e fare questa data oppure meglio ancora qui entriamo più questo è ancora questo è più semplice e però è un dato molto più diciamo forte i comportamenti quindi se io all'interno di un'email riesco ad inserire con la tecnologia della piattaforma dei tag comportamentali io segmento perfettamente il mio db e so se questa persona qui ha un cane o un gatto senza che me lo dica perché lo vedo dai click che fa sui link riguardanti il cibo per cani o il cibo per gatti ecco questo non è utilizzo di un software questa è strategia e questa cosa qui poi mi serve lo vedremo dopo anche in termini di scrittura dei contenuti oppure profilazione couponing anche in questo caso posso profilare e automatizzare il mio il mio sistema diciamo il mio piano editoriale newsletter attraverso delle email basate sulla compilazione di un dato inviando un coupon meglio ancora se riesco ad automatizzare le email basando le informazioni su dei dati di acquisto quindi se riesco a integrare la piattaforma di email all'interno del proprio shop provate a immaginare se un sistema prendesse tutti i dati e l'integrasse dello shop e l'integrasse all'interno della piattaforma email voi sapete chi è il miglior cliente il miglior cliente qual è il prodotto più acquistato meno acquistato quante volte e potete reingaggiare in questo modo perché? perché probabilmente mi sta finendo il vino e se me lo ricordi io lo compro perché ci vuole almeno 3-4 giorni prima della spedizione e continuo si vede che bevo un po' eh faccio un esempio solo su cani e gatti e c'è vino ok ultima cosa le email come per esempio le ricevute queste vengono sempre lette faccio un salto velocissimo per darvi 5 informazioni proprio veloci veloci 5 consigli allora strategia keyword anche per le newsletter se un articolo funziona sul vostro blog quelle parole chiave hanno portato al successo se portano successo nel blog avrete successo anche nelle newsletter usatele per l'oggetto vi ricordate il 90% archiviare le newsletter sul sito le newsletter se inserite su un diciamo piano editoriale sono fanno parte diciamo del vostro bagaglio di contenuti spesso sono anche contenuti duplicati perché magari sono riprese dal blog però inserire l'archivio è sempre corretto ricordatevi però di inserire il tag canonical per dire a google che è un contenuto duplicato il vero contenuto andarlo a prendere da un'altra parte quindi qui parliamo di SEO tecnica tracciare sempre con gli UTM i link questo soprattutto per capire se una cosa funziona o non funziona per dare delle risposte corrette a risultati ricordate il piano editoriale di contenuti anche per newsletter questo pochi se ne ricordano perché il piano editoriale porta sempre come memoria facebook instagram però le newsletter hanno bisogno di un piano editoriale sono quelle che hanno più contenuto e sono anche quelle che da un certo punto di vista riescono a passare più informazioni e infine usare le newsletter top performer in articoli blog il contrario di prima quindi se io invio una newsletter e funziona molto bene ha delle ottime interazioni quella newsletter lì poi mi servirà devo usarla in qualche modo i contenuti quel tema lo devo usare anche nel blog domande dato veloce in teoria e in pratica abbiamo pochissimo tempo quindi diamo spazio a una domanda poi Paolo si fermerà qui se volete poi fargli delle altre domande vi ricordo votate su intervento nel vostro status mi raccomando ciao buongiorno mi chiedevo ecco ti scusi una volta che ci rendiamo conto di essere stati messi in spam da un utente o più del nostro database c'è un qualche modo di recuperare magari te la butto quello che dicevi prima la sinergia tra web reputation e quella dell'email marketing quindi magari accrescendo la nostra web reputation riusciamo a essere recuperati o a quel punto è meglio cestinare il contatto e tanti cari saluti insomma allora premetto che cestinare un contatto fa tanto male ma non sempre sbagliato perché se non apre continuerà a non aprire se però non apre per quello che dici tu quindi va in spam è fisiologico che le email possano andare in spam il tasso medio è intorno al 22 23 25% quindi vuol dire che l'altra parte o non viene in qualche modo contrassegnata come apertura oppure non arriva ok questo dati di mercato generali ecco il bello della reputazione è che ho sempre o quasi sempre una seconda opportunità soprattutto nel digital quindi se la prima volta non apro è possibile riprovarci una seconda volta se non continuo ad aprire a quel punto mi devo stoppare un attimo mi stoppo aspetto un periodo di tempo non troppo corto neanche troppo lungo diciamo un mesetto o comunque un paio di mesi e ci riprovo ancora questo perché gli algoritmi a un certo punto non resettano completamente perché hanno memoria hanno memoria sia grafica quindi fanno proprio un print della diciamo delle informazioni ma in qualche modo poi abbassano la tensione su quel dominio per riportarlo un pochino a zero si dice quindi in modalità neutra però se si sbaglia di nuovo ecco lì è sempre più complesso quindi aspettare sostanzialmente ok grazie Paolo se volete fare i dettagli